Morandi, Ruggeri, Tozzi, si può dare di più venerdì 8 marzo, questo è il Crystal History delle ore 8, bentornati a Good Morning Milano e per questo venerdì 8 marzo abbiamo qui in studio con noi la nostra bravissima spumeggiante bionda che conta, che oggi invece non conta, oggi non fai contare niente, buongiorno Viola! Ciao Fabio, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, oggi soprattutto, non cominciamo a sbagliare sulle basi, allora 8 marzo abbiamo avuto Silvia Gatti, io e Silvia siamo quasi della stessa generazione, quindi abbiamo un'idea di 8 marzo, com'è l'idea dell'8 marzo di una nata nel 2003, tu sei nata nel 2003, pensate nascevano le 2003 persone che sanno parlare in questo momento, sono già così grandi da poter… Ma secondo me l'8 marzo comunque rimane importante da ricordare e festeggiare, forse non ha l'importanza che aveva una volta, ma sicuramente è importante per fare tutte quelle iniziative di cui parlavate anche prima, quindi i cortei, i flash mob… Ma questo è un tuo pensiero o ti stai con le tue amiche? No, è il mio pensiero, è il mio pensiero personale Quindi chiunque possa venire qua a prendere il microfono e dire quel cazzo che ho? No, no, è letteralmente il mio pensiero personale, secondo me è molto più impegnato Non ti sei confrontata con le tue compagne, le tue amiche? No, sì, è capitato, allora oggi ancora no Beh, ieri, gli allenamenti, ieri non avete parlato No, non abbiamo parlato, però secondo me, in generale io sento questa cosa che è molto più impegnato rispetto agli anni passati Cioè c'è un impegno… Sì, aumenta sempre di più, siccome poi la situazione è peggiore di anno in anno, secondo me l'8 marzo l'impegno che si vede è sempre maggiore Mi sembra, quindi meno festa della donna più giornata d'impegno Esattamente, esattamente questo, meno festeggiamenti della donna è molto più giornata Quindi non si va stasera fuori con le amiche a bere qualcosa di… no? No, vabbè, si può anche fare, in realtà, si può anche fare ma non è il punto principale, ecco, dell'8 marzo Si può anche fare perché comunque l'8 marzo è carino uscire con le amiche Così, se ti regalano la mimosa sei contenta o nota? A me fa piacere, in realtà Sì, non puzza? Sì, non è dei migliori, non è tra i miei preferiti, però a me fa piacere ricevere il fiore Ah, ok, bene, bene, bene Ma so che ricevi anche spesso, volentieri, dei whatsapp, dei messaggi nominatori Ma anzi, in realtà, buon auspicio Sì, ne stavamo parlando prima, ma tra l'altro mi è arrivata adesso una bellissima foto di Rita Levi-Mottalcini Dalla compagna di mio padre, classica gif, un po' da… Da boomer, diciamolo Ecco, è il momento, messaggio dal boomer Esatto, vabbè, questa è anche carina Adesso non so, te la faccio vedere Siamo in radio, quindi farla vedere Comunque c'è proprio il viso di Rita Levi-Mottalcini Gigante, è una bella frase Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla Se non la loro intelligenza Hai visto? Vabbè, solo questo Ma è vero, pensa, tu sei così intelligente che infatti non… Cioè, in radio, la gente deve immaginarti È vero Quindi puoi tranquillamente non mostrare nulla In realtà non è vero Perché se volete, su Milano il News E su anche goodmorning.milano.it Potete poi rivedere il podcast Il video podcast della nostra trasmissione Quindi anche conoscere proprio vis-à-vis La nostra bionda che conta A proposito di bionda che conta Stai preparando? Sì, sì Ma l'ho già preparata Possiamo dare una notizia Possiamo dare uno spoiler No, possiamo dare una notizia Che cosa succede se domanda prossima? Purtroppo Sarà la mia ultima settimana qua Good morning Milano No Ti ha chiamato Fabio Volo Mi ha chiamato Fabio Volo Ecco, lo sapevo io Il primo giorno ho detto questa cosa di Fabio Volo Che avrebbe rubato la nostra viola Vedi, è successo Ecco Tra l'altro mi ha scritto adesso in diretta Monica Ah, pensiamo a Fabio Volo No, la compagna di mio padre personale indietro E mi scrive E io sono giovane Non sono una boom Ecco, rivendica Perdonami Rivendica tutto Apnea, Emma E siamo qui ancora con Violo Oggi Violo ti tengo qui un po' di più in studio Volentieri Visto che non hai niente da contare Ti leggo un po' di notizie Vediamo un po' cosa mi dici tu Vai, vai, vai Allora, case di lusso a Milano Quindi parliamo di casa tua Sì, certamente Certamente Proprio io La richiesta di appartamenti continua a crescere Vedi, perché sei tu che la stai cercando Ma sono pochi Quindi ci sono poche case di lusso a Milano Ma va? E soprattutto i prezzi non scendono Eh, vabbè Che notizia è? Cioè adesso voglio lasciare Non ho capito bene Lo scupo qua Devo dire la verità Quando l'ho letta la prima volta Mi sembra più sensata Rileggo Case di lusso a Milano La richiesta di appartamenti continua a crescere Ma sono pochi E i prezzi non scendono Ah, ok Ah, quindi dice c'è sempre più richiesta Ma troppe poche case Nonostante non scendano i prezzi Esatto Cioè quindi le case costano sempre tanto La richiesta è comunque altissima E pensa a te Non ci sono neanche case Per tutta questa gente Che può permettersi queste case Sì E qui c'è la domanda E quella Ma chi è questa gente? Cioè Perché Chi fa richiesta, dici? Pensa, pensa, pensa Domanda e offerta però Fanno fatica ad incontrarsi Un fenomeno che interessa Tutto il mercato cittadino Ma che nel caso del lusso Potrebbe avere conseguenze più serie Quindi è ancora più difficile Trovare case di lusso Piuttosto che casacce Dove andiamo noi Perché Per chi Scusate Per chi è disposto A firmare assegni a sette cifre Madonna Dopodiché ancora c'è gente Che firma ancora gli assegni È una domanda Vero Comunque vabbè Niente Quindi se tu Tu hai compagnie Di corso fuori sede Certo Che si lamentano Com'è? Com'è? Allora Devo dire che Cioè la tua cricca di gente ricca Come funziona Non lo saprei Però Devo dire che in realtà Le mie compagnie di corso fuori sede Sono state abbastanza fortunate Perché tra amicizie Di genitori Parenti Bene o male Si sono Più o meno Più o meno arrangiate Trovate bene Quindi non ho particolari lamentere Però ecco La notizia che hai dato è quella L'hanno fatto grazie ad amicizie Quello è l'unico modo L'unico modo Per fortuna Per conoscenze Perché sennò è difficilissimo Però devo dire che loro in realtà Si trovano bene Ad esempio Questa mia compagna di corso Avete in zona Naviglio Ah bello Si Monolocale piccolissimo Però essendo che Quanto spende possiamo dirlo Non diciamo il nome Ma diciamo quanto spende 400 euro Ma niente Niente Vabbia Milano niente È comunque davvero piccola Come in casa Non diciamo il nome E neanche dove Perché li occupano casa Quindi non diciamo No infatti No 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 Ciao Silvia No non lo so Non so come si chiama C'è un peccato No non è libero C'è una compagna fuori corso Che si chiama Silvia Che abita fuori sede a Sesto Fuori sede Fuori sede non fuori corso Che adesso in questo momento I parenti di Silvia hanno detto Come fuori corso No 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 fuori sede Fuori sede Fuori sede A Sesto Infatti a Sesto Lei si trova bene Perché i prezzi sono Ok Studia lingue Viene a Sesto Ok Quindi se volete andare In Festa del Peruno E volare Viola Silvia ogni tanto Magari ci trovate lì Non è vero Non ti ho mai visto In università Da quanti mesi è Che non metti piede Da quando sono qua con te Che non metto piede In università Perfetto Ci tornerai Sì dai La settimana prossima Sì non settimana prossima Anche l'ultima Quella dopo devo Quella dopo devi Non so Diciamo che Metti un ombrello viola Portati un ombrello viola Così Se volete andare In Festa del Peruno E c'è una ragazza Con un ombrello viola Anche se c'è il sole È viola Vero Se no mi potete trovare In Via Noto Sono una delle dieci persone Che è rimasta Che va in Via Noto Spesso Lì sicuramente Mi troverete Perché sono una Di quelle poche sfigate Che devono andare ancora lì Questa cosa di Via Noto Veramente La spalla di Damocle Su tutti gli universitari E so essere una cosa Che va avanti da anni E continuerà a esserci Ancora per anni Nonostante il ridimensionamento E il rilocamento Delle varie facoltà Della statale Gailey IBC DUF Comunque Sono donne Quest'oggi Adesso dopo poco Andiamo in pausa Andremo in pausa Con Rose Villain Che so che Tu avevi un aneddoto Da dirci Che appunto Nel giornale Abbiamo letto in questi giorni Sì sì L'ho letto anche io In questi giorni Che praticamente Rose Villain A quanto pare Non lo sapevo Ma è appassionata di moto Aveva questa moto Che aveva perso Gliela avevano rubata Insomma Non persa L'avevano rubata Sì E a distanza di Non mi ricordo quanto Un mese Credo Un fan Gliela ritrovata Sui Navigli E niente Quindi adesso Rose Villain Ha ritrovato la moto Grazie a questo fan E gli ha promesso Un giro in moto Non lo so quello Ma sicuramente Entrata gratis Ai concerti A vita Questo è quello che dice lei Poi effettivamente Non lo so Poi ti daranno un passavita Interessante Pensa che prima Hai detto Hai avuto un lapso L'aveva persa Non l'aveva E pensa che invece Leggo Corriere della sera a Milano Denuncia il frutto dell'auto E poi la parcheggia Dopo oltre un mese Scopre che l'aveva parcheggiata Nel garage del vicino Sì ho letto pure E pure io stamattina E questo qui E questo qui Questo batte tutti Questo batte tutti Questo batte tutti Non posso dire il nome Perché non so se È arrivato Andato in prescrizione Ma un mio caro amico Anni fa Denunciò Il furto dell'auto Che non trovò più Non trovò più Non trovò più Quindi fu pagata Dalla sequenza Auto nuova Comparte una settimana prima La ritrovò dopo Sei mesi Lui Andando in una via In cui non aveva mai parcheggiato Secondo lui Invece aveva parcheggiato lì Non disse niente a nessuno Non lasciò la macchina E se ne andò Ha fatto bene Non dire niente Non la riprendo No però Sei mesi dopo La ritrovò Ogni tanto succede Però insomma Complimenti ai fan Dei Rose Villain Che si sono movimentati Mobilitati Per trovare la sua moto E quindi Non fa click boom Fa brum brum La sua moto Ma andiamo ad ascoltare Click boom Con Rose Villain E poi piccola pausa Troviamo qui Dopo la pubblicità Grazie a tutti